La partita più importante del campionato di eccellenza Il Canada si prepara ad essere riempito in ogni ordine di posto con un tifo da categoria superiore per riuscire a strappare la vittoria ai più blasonati costieri Un'impresa ardua ma quest'audax ha già dimostrato di poter far male alle cosiddette grandi e di assicurarsi un posto al sole In un girone dove ci sono tante squadre dal passato importante perché oltre al sorrento le rivali di Maiella e compagni sono Palmese, Nole e Battipaiese tutte società che bandano trascorsi tra i professionisti per questo ottenere un posto negli spareggi promozione sarà ancora più bello e chissà che alla fine l'Irpinia non possa avere il suo nuovo Mariano o il suo nuovo Solofra